una stretta sulle sanzioni? Ma guardi, noi abbiamo una riforma del regolamento che di fatto è ingiunta già da un anno, più di un anno nella quale riforma c'è anche appunto un emendamento che si occupa di questo, delle sanzioni, degli insulti in aula anche quando hanno uno sfondo sessista e la sanzione in quel caso sarebbe molto pesante perché arriverebbe con l'aggravante sessista 40 giorni e dunque qualcosa di molto, molto pesante. Io credo che sia importante dare segnali in questo ambito perché se le persone non sono in grado di autoregolamentarsi allora bisogna stigmatizzare con una sanzione che sia anche paragonabile all'offesa ricevuta.